A me piacerebbe parlare di un'evoluzione che riguarda tutto quanto il dipartimento cardiologico, che tutti insieme stiamo lavorando perché la qualità di vita e soprattutto l'assistenza venga migliorata al 100%. Andrea sta sviluppando due linee di progetto importante, uno l'elettrofisiologia e l'altro la cardiopatia strutturale. Con l'avvento della nuova sala l'anno scorso abbiamo raddoppiato i numeri di impianti, l'anno scorso abbiamo cominciato con le destre e quest'anno ci stiamo occupando del trattamento ablativo della fibrillazione atriale con una nuova tecnica presente in pochi centri che è la crioblazione. Ma non solo, stiamo dando spazio moltissimo alla cardiopatia strutturale di cui si occupa il dottor Larosa per quanto riguarda la chiusura del forame ovale e soprattutto anche la chiusura dell'auricola che va a chiudere un altro cerchio importante nel trattamento della fibrillazione atriale. Ci sono pazienti con fibrillazione atriale che non possono eseguire la terapia anticoagulante per evitare l'ictus ischemico e in questi casi è indicata la chiusura dell'auricola sinistra. A Cardiobat quest'anno saranno affrontati i team più salienti della cardiologia moderna e quindi parleremo di elettrofisiologia con massimi esponenti nel campo. Allora un ringraziamento è d'obbligo, innanzitutto alla direzione strategica che ci ha supportato in questo lavoro continuo e negli anni, ma permettete un ringraziamento di cuore a tutti coloro che lavorano presso il Dipartimento di Cardiologia della ASLBT. Dal personale medico, qui sono circondato da alcuni dei miei colleghi, il dottor Valenti per l'emodinamica, il dottor Giafrancesco per l'elettrofisiologia e il dottor Larossa per quanto riguarda la cardiopatia strutturale.